Cos'è questo? Perché perché sembra un razzo? Sì, quello è piuttosto interessante. Quello che probabilmente vorrai usare anche la telecamera interna. Wow, oh, quindi, è un quindi, è capovolto, eh? Sì, sì. E dentro? Cosa troviamo? Quello che troviamo all'interno sono i resti del nucleo originale. Quindi, hanno perforato un nucleo per scavare l'interno. Hanno perforato un foro all'interno e poi hanno spezzato il nucleo. Ma in questo caso, il nucleo non si è spezzato proprio in fondo. Si è spezzato con circa un metro a c. Davvero? Capisco, sì. Wow, non è fantastico? Wow. È piuttosto folle. Sì, e nessuno è mai stato dentro questa cosa per vederlo prima. Sì, scommetto, giusto. Storia. Sì, perché perché la 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 bocca è così piccola? Giusto. E non puoi se ci guardo attraverso. Non si vede nulla. E quelle telecamere così utili. È come se dovessero cosa? Dovrebbero perforare tutto il pezzo e poi spezzare il nucleo. Giusto? Ma poiché è così piccolo, non ci sono riusciti. Corretto. Wow. Grazie a tutti. Grazie a tutti.